Siamo dalla redazione web della città di Torino, ben ritrovati a questo primo appuntamento della giornata con le notizie dal web della città. Iniziamo con gli appuntamenti istituzionali, oggi venerdì 17 alle ore 9, quindi appena iniziata, a Palazzo Civico, il Sala Orologio. La riunione della quinta commissione consigliare preseduta da Luca Cassiani, con all'ordine del giorno l'audizione di Paolo Iennaco, direttore scolastico provinciale, sulla situazione delle scuole torinese alla luci delle recenti riforme legislative. Secondo appunto l'ordine del giorno, mozione politica per il teatro regio e per il sistema teatrale piemontese. Alle 11, sempre a Palazzo Civico, in Sala Orologio, riunione della prima commissione consigliare preseduta a Giochino.ro, in seduta congiunta con la quarta preseduta da Maria Teresa Silvestrini e la commissione controllo di gestione di Antonello Angeleri, all'ordine del giorno discute sulle farmacie comunali Torino e seppia modifiche dello statuto sociale, patti parasociati con il socio operativo industriale di minoranza. Alle ore 11.30, al circolo di rettori via Boggino 9, e l'assessore di Fieri interviene alla conferenza stampa di prestazione di Grand Tour. Alle 14, a Palazzo Civico, nella Sala dei Capi Gruppo, inizia la conferenza dei Capi Gruppo. Alle 15, sempre in Sala Capi Gruppo, riunione della seconda commissione consigliare preseduta dal Pier Levi Montalcini, in seduta congiunta con la conferenza dei Capi Gruppo, appunto preseduta da Giuseppe Castrono, sulle nomine dei componenti della commissione locale per il paesaggio della città di Torino. Questi erano gli appuntamenti di oggi, venerdì 17. Il tempo, vediamo in home page, riportiamo oggi ovviamente tempo sereno, 25 gradi e mezzo, 67% di umidità. Ieri l'alta pressione nordafricana, estesa dall'Algeria alla Russia, ha mantenuto un tempo stabile, forte caldo su tutto il Piemonte. Oggi l'arrivo di una depressione atlantica provoca un brusco peggioramento, con temporali anche violenti nel nord della regione. Sabato l'allontanamento della perturbazione verso esteri porterà condizioni di tempo più stabile e asciutto sul Piemonte, con condizioni di fenni nelle vallate alpine. Domenica rimonta l'alta pressione sul Mediterraneo, garantendoci così tempo bello, con temperature in graduale rialzo. Il peggioramento è anche visibile dall'abbassamento drastico dell'indice di stress di calore, che ieri era a 8.9 su 10, che è il massimo. Oggi si testerà su 3 e domani a 2.1. Bene, passiamo all'agenzia Torino Click, la nostra agenzia quotidiana. Il numero uscito ieri è disponibile nella prima pagina, nella colonna di destra, come notiziario in pdf, ha come titolo di articolo di apertura il ritorno della festa di San Giacomo il 25 luglio, una festa nata nel Cinquecento tra i barcariori del Po e torna per celebrare la vocazione sportiva del fiume. Altri articoli riguardano la musica che torna anche qui al giardino San Buì, Un'estate per tutti alle officine Grandi riparazioni di Corso Castelfidardo, con la presentazione del programma. L'esperienza Italia apre agli sponsor e infine carceri, il sistema è al collasso. A Torino la presenza di 1.300 detenuti in più costituisce di per sé trattamento inumano e degradante. Questi alcuni degli articoli dell'edizione pubblicata ieri di Torino Clic. Bene, passiamo velocemente alle notizie del web della città, mi suggerisce Mario. Abbiamo riportato in evidenza oggi la notizia che a partire appunto dal venerdì 17, la sosta a pagamento nell'area circostante di Piazza Vittorio Veneto cambi orari dalle 19.30 del venerdì, del sabato e della domenica fino alle 8 del giorno successivo. La sosta sarà riservata ai residenti con contrassegno sulla notizia. Trovate anche poi le più precise indicazioni sull'area interessata. eccoci ora alle webcam iniziando da quella tradizionale di Palazzo Civico, piazzale Autostrade Nord, direi che traffico sostanzialmente normale all'ingresso della Torino a Osta Milano. eccoci qua, siamo in corso alla Rotonda Maroncelli, traffico un pochino denso come sempre nella mattina, Agnelli Corso Cosenza, anche qui un po' di traffico ma non tantissimo. Qui siamo all'incrocio Corso Siracusa, Corso Tireno, ricordo che queste sono webcam che potete ritrovare sul consorzio 5T, www.5t.torino.it ed infine questa è quella del Rondo della Forca. Con questo abbiamo terminato, vi do appuntamento all'edizione delle ore 16.15 dove parleremo anche di cosa fare questa sera a Torino. A tutti, buon proseguimento di giornata.